Luci e ombre nelle trattative sulle vertenze aperte in Abruzzo. Se per Yokohama e Pilkington la strada sembra essere piuttosto in discesa, è la situazione della Betafence a preoccupare. Per lo stabilimento di Tortoreto, infatti, c'è totale chiusura da parte della proprietà, il fondo di investimento Carlyle, rispetto a possibili soluzioni che evitino la chiusura a fine anno e conseguentemente la perdita dei posti di lavoro, come spiega l'assessore regionale alle attività produttive Mauro Febbo. In effetti abbiamo una difficoltà con la proprietà, in quanto non riusciamo ad avere certezze sulla produzione, sui dati e su una serie di situazioni. Mi auguro che le richieste che le sono state fatte dal Ministero, perché a quelle della Regione purtroppo non ha mai dato seguito, dal Ministero porti a lavorare su un tavolo dove di solito magari poi ci sono anche altri interlocutori. Come detto, situazione diversa per Yokohama e Pilkington. Per lo stabilimento nipponico di Ortona ci sarebbe un compratore, un'azienda lombarda interessata a rilevare il sito produttivo, salvaguardando in toto e in parte le maestranze. Tra Giappone e Italia sono in corso le trattative, mediate dalle istituzioni nazionali e regionali, trattative che implicano però una necessaria prudenza, ma sulle quali c'è un cautoottimismo. Avremo ulteriori passaggi a livello ministeriale, mi sembra che ci siano buone possibilità di soluzioni, i contatti tra questa società con cui ha avuto rapporti, mi aveva chiesto di intercedere, sta andando avanti, sta chiedendo delle garanzie al Ministero e mi sembra che nel giro di un po' di tempo la cosa possa essere risolta anche positivamente. A San Salvo invece sembra in via di soluzione la questione aiuti di Stato per la Pilkington, azienda che produce cristalli per l'automotive. Il settore dell'auto è in crisi anche a causa della pandemia in corso e l'azienda potrebbe spegnere il secondo alto forno. Siamo attivati da diverso tempo per capire come era possibile superare il famoso vincolo degli aiuti di Stato, abbiamo trovato una soluzione e quindi credo che in settimana partirà la notifica e quindi questa è una buona notizia perché chiaramente la Pilkington rappresenta una delle più grandi aziende che noi abbiamo in Abruzzo, fermo restando che nell'automotive c'è anche la Sevel che però per la tipologia di veicolo che produce non dovrebbe rientrare in questa crisi.